Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui oggi per parlare di un argomento molto delicato, di Paolo Di Bala, che succederà appunto l'entusiasmo, o meglio l'interesse, di molti tifosi romanisti e non solo. Prima di affrontare questo argomento vi invito ad iscrivervi al mio canale e di lasciare un bel like per appunto supportarmi. Allora, iniziamo quindi a parlare dell'argomento di quest'oggi e volevo parlare appunto di un argomento che sta andando molto di moda questi giorni in casa giallorossa, cioè di dare o no la numero 10 a Paolo Di Bala. Ed ecco, oggi quello che andremo a fare sarà appunto analizzare i motivi di dare la maglia numero 10 a Di Bala e i motivi per non dare la maglia numero 10 a Di Bala. Tutti in retroscena e tutti gli indizi che portano a una possibile acquisizione di questa maglia, di questo numero. Allora, partiamo appunto dalle origini appunto di ora, perché qualche giorno fa è stata presentata la maglia giallorossa, nuova, ci ho fatto anche lo shorts che a me è piaciuta, anche se ha uno stile tutto suo, però a me è piaciuta. E appunto, ovviamente, Adidas e la S Roma hanno messo una foto della numero 10, appunto come sul post del profilo Twitter della Roma, appunto questo post con la maglia numero 10. Ok, ovviamente non c'era scritto Di Bala, non c'era scritto niente. Fatto sta che sotto arriva il like di Di Bala e tutto questo è stato l'origine per far suscitare l'entusiasmo giallorosso di tutti i tifosi appunto della Roma, ok? Ora, forse la Roma e l'Adidas l'hanno fatto per marketing, perché come sappiamo credo che il numero 10 in casa giallorossa è il numero più onorato appunto nella storia della Roma per Totti appunto. E quindi l'hanno fatto per marketing, per far appunto visualizzare di più questo post, per taggare Totti, ok? L'hanno fatto sicuramente per il brand di Francesco Totti e della maglia numero 10. Forse magari un indizio anche di un ritorno della numero 10, non si sa, ok? E questo like di Di Bala sicuramente suscita l'entusiasmo e può essere un indizio social abbastanza importante, ok? Anche perché comunque nella presentazione della maglia giallorossa Di Bala è stato messo in prima fila centrale con dietro altri due giocatori, ma era lui il protagonista ad indossare la maglia, ok? Quindi Di Bala sicuramente sembra il maggior indiziato sia per qualità tecniche sia per indizi social a riportare la maglia numero 10 in vita in casa giallorossa, ok? Ovviamente tutto questo ha un'origine perché come sappiamo Di Bala quest'anno ha fatto una stagione strabiliante, è andato in doppia cifra in Serie A, ha trascinato la Roma in Europa League e non solo, senza di lui neanche in Coppa Italia forse saremmo andati avanti contro il Genova, quindi senza di lui secondo me la Roma sarebbe arrivata fuori dalla Conference League addirittura perché ha tolto tante volte le castagne dal fuoco, ok? Quindi a livello tecnico secondo me Di Bala è un giocatore uno di più forti in Serie A, se non il più forte in Serie A. Ovviamente la tenuta fisica è il suo punto debole, ma non esiste un giocatore che non ha un punto debole, purtroppo il suo è appunto la tenuta fisica. Questi giorni si sta parlando di questa numero 10, se darla o no. Prima di dirvi il mio personale parere, vi dico appunto, essendo anche di Roma e vivendo la situazione in prima persona, quali sono i pensieri dei tifosi giallorossi, ok? Cioè chi si divide nel non diamogliela perché ancora non ha dimostrato quello che ovviamente ha dimostrato Totti, e là si divide la categoria magari dei più avanzati di età, di chi hanno visto il Prime di Totti. E poi c'è un'altra categoria, poi vi dirò di quale io faccio parte, c'è un'altra categoria che dice no, riportiamo in vita il numero 10, Totti ormai, non dico che è passato perché Totti non passerà mai, ma ormai si è ritirato, quindi è ora di dare una nuova vita a questo numero e l'erede è Paolo Di Bala. Ora vi dico cosa ne penso io. Io onestamente penso che se Di Bala rimane, rimane, altri anni, tanti anni, quindi almeno altri 4-5-6 anni. E la vedo una cosa difficile ma non impossibile, perché Di Bala sembra molto innamorato della Roma, ovviamente il Dio Denaro fa il calcio ad oggi, quindi magari non si sa se magari tra due anni Di Bala se ne va, ma in questo momento Di Bala è innamorato di Roma, e non credo sia una classica finzione da parte del giocatore, perché io vedo, si vede che Di Bala è veramente innamorato di questa città, di questi tifosi, di questa squadra, e quindi secondo me può rimanere tutti questi anni. Il discorso è, appunto, se Di Bala deciderà di assumersi le responsabilità e l'onore di questa maglia, perché se tu la prendi, tu entri a far parte della storia della Roma e la devi onorare, tu hai una scelta, perché se tu la prendi rimanerai minimo altri 4-5-6 anni. Devi vincere in questi anni e devi dare tanto, devi dare tanto, ok? Quindi è una scelta che ti può cambiare la carriera, perché se la prendi sei obbligato, perché è un obbligo, se no non la prendi, perché è una scelta, no? E se scegli di prenderla è un obbligo onorare questa maglia e rimanere in giallo-rosso fino al fine carriera. Quindi, se Di Bala deciderà di prendersi questa responsabilità, io non vedo il perché negargli, appunto, di prenderla. Non vedo il motivo di dirgli no. Questa è la maglia di Totti, dobbiamo farla rimanere in bacheca altri 10 anni e tu non puoi indossarla. Io credo che se Di Bala vuole e può, e si assume, appunto, questo onore, questa carica, perché è una carica, io gliela farei prendere. Mi associo alla seconda categoria, che dice, appunto, che se lui vuole, se si prende, appunto, tutte queste cose, gliela darei. E quindi io penso che Di Bala si merita per qualità tecniche e per l'amore che finora ha dimostrato alla maglia giallorossa di prendere la numero 10. E gli ha dato il via libera anche Totti, gli ha detto le stesse cose che, ovviamente, vi sto dicendo io, o meglio, io vi sto dicendo le stesse cose che ha detto Totti, che se lui rimane altri 10 anni, Totti ha detto, lui se la può prendere tranquillamente, tra virgolette tranquillamente, la maglia numero 10. Quindi Totti gli ha dato tranquillamente il via libera, perché anche Totti sa che Di Bala, non dico che ha le sue stesse qualità, ma che in un calcio, ad oggi sopravvalutato, perché ci sono giocatori che magari non meritano di stare in quella categoria, Di Bala è un giocatore che domina, come dominava Totti all'epoca, ok? Ci sono due giocatori molto simili, due numero 10, perché Di Bala indossava la 10 alla Juve, e Di Bala nella prima stagione non si è sentito di prendere subito la 10, perché non gliel'avrei data al primo anno, sarebbe veramente un carico di responsabilità al primo anno troppo, troppo elevato per qualsiasi giocatore, e quindi ha preso la 21. Quindi sì, io gliela darei, gliela, cioè, sì, gliela donerei questa numero 10, ok? Però capisco, allo stesso tempo, le persone un po' più avanzate di età, avanzate nel senso comunque, non 80 anni, 90 anni, intendo persone di 30, di 40, di 50 anni, ok? Che comunque hanno visto Totti Prime, che comunque hanno visto cosa ha dato Totti, ora io nel caso sono molto giovane, quindi Totti l'ho visto, ma non nel Prime, quasi più o meno nel ritiro, ok? Nella fine della sua carriera, e quindi magari ho anche una corrente di pensiero diversa, per appunto la mia età anagrafica. Sicuramente andiamo ad analizzare anche l'aspetto economico che avrebbe, perché dare la numero 10 a Tibala, ora sì, l'aspetto economico su questo conta l'1%, però andiamo ad analizzare anche questo l'1%, perché se tu dai la numero 10 a Tibala, succede la stessa cosa che è successa a Ronaldo, che è andata alla Nasr, cioè che tutti, anche se non conoscevano affatto la Nasr, sono andati sul sito di qualsiasi sito che vende magliette, hanno ordinato la maglietta della Nasr, con sopra scritto Ronaldo 7, perché ormai è un brand Ronaldo, come è un brand il numero 10, come è un brand Totti, e se Tibala prende la numero 10, la maglietta della Roma diventerà in quest'anno, secondo me, la maglia più venduta tranquillamente al mondo, perché a Roma è proprio un culto la numero 10, e quindi secondo me diventerebbe la maglia più venduta al mondo, gli incassi sarebbero alle stelle, non dico che la società deve prendere in considerazione questo, però sicuramente è un fattore da analizzare, che l'aspetto economico è da parte, è di parte appunto al far prendere la 10 a Tibala, perché ti porterebbe nelle casse tanto, tanto, Ora immaginate un turista appassionato di calcio, che magari viene dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, da quello che volete, viene a Roma, va a Roma Store, cosa si può prendere? Se hanno appena dato la numero 10 a Tibala, si può prendere una maglia, quella, non si può prendere nient'altro, la numero 10 di Paolo Tibala, la prima numero 10, dopo l'era Totti, perché cambierebbe la storia della Roma, questo è un nuovo capitolo della storia, se Tibala prende la 10, perché se Tibala prende la 10, tu vuoi dire solo una cosa, qua vogliamo fare le cose in grande, Tibala vogliamo far rimanere con noi, e qua vogliamo aprire un ciclo vincente, perché se tu fai prendere il numero 10 a Tibala, vuol dire che Tibala è convinto, che la Roma vuole vincere, vuole fare la storia, non solo vincendo l'Europa League l'anno prossimo, non solo provando a vincere un trofeo, ma provando a vincere lo scudetto, e magari chissà, perché il calcio è imprevedibile, un giorno, il calcio è illogico, la Champions League, fa ridere detto così, ma il calcio come ho detto è illogico, e che ne sai che tra 4-5 anni la Roma non è in lotta per vincere la Champions League, è una cosa pazza, ma è così, l'Atalanta fino a 7-8 anni fa lottava per non retrocedere, stava in Serie B, ora si gioca l'Europa League e la Champions, quindi il calcio è totalmente illogico, e questa scelta appunto porterebbe un entusiasmo elevatissimo in città, e appunto anche perché vorrebbe dire che la Roma vuole fare le cose in grande. mi sono scordato di dirvi una cosa, una piccola coincidenza, che appunto magari potrebbe essere un altro indizio questo, che la Roma, se ci pensate, quest'anno ha fatto le maglie belle, bellissime, la prima maglia, ricorrente al primo Totti, il lupetto tutto esteso della Roma di 20-30 anni fa, i colori uguali, cioè spaccati, proprio uguali, la maglia è uguale, solo ovviamente un po' più moderna, perché stiamo comunque 30 anni avanti, e potrebbe essere un indizio che, se tu hai fatto la stessa maglia del primo Totti, magari fare quella maglia con il primo 10 del dopo Totti, sarebbe un grandissimo collegamento, quindi ci sarebbe tutto, che la Roma dà il primo numero 10 del dopo Totti, quando c'è la maglia ricorrente al primo Totti, cioè sarebbe una cosa totalmente collegata, totalmente con un senso logico, e quindi anche questo secondo me è un indizio abbastanza pesante, non penso che gliela daranno, ma se gliela daranno è qualcosa di clamoroso, non succede, ma se succede è qualcosa di bellissimo, clamoroso, e cambierebbe appunto su me la storia della Roma, se aprirebbe un nuovo capitolo, che ne sai vincente magari con Di Bala, con Murigno, ora dobbiamo vedere se Murigno rinnova, e se Di Bala prende la 10, Murigno rinnova, si sogna in grande, anche perché si sa, in tutte le parti d'Italia, i tifosi della Roma, noi tifosi della Roma, siamo un popolo, quasi chiamiamolo popolo, che si esalta con cose banali, e sogna, poi magari prende la sfrangata, che questa stagione deluderemo, e poi il morale si abbassa, ma noi nel calcio di mercato, prendiamo un grandissimo acquisto, ci esaltiamo, e quindi questo porterebbe un entusiasmo gigantesco nella città di Roma. Di Bala, per esempio, dimostra, ha dimostrato, sta dimostrando, l'amore che ha per la Roma, anche perché ha rifiutato ogni possibile approdo all'estero, perché non è un segreto, che Di Bala ha rifiuto le offerte prima dalla rabbia, offerte che parlavano di 30 milioni l'anno, 30-40 milioni l'anno, per un trentenne, che ora ne prende 6, 6 compresi bonus, e tu rifiuti un'offerta dalla rabbia, che probabilmente il 90% dei giocatori ad oggi, avrebbe accettato, come ha fatto Brozovic, come ha fatto Kanté, come ha fatto Benzema, come ha fatto Mendy, che ha 7 anni in meno di Di Bala, come ha fatto Ruben Neves, come hanno fatto tutti, Di Bala non l'ha fatto, è rimasta a Roma, rifiutando un'offerta che ti dava 6-7 volte, quello che prendi ora, e l'ha rifiutato. Poi è venuto il Chelsea, che voleva pagare la clausola recissoria alla Roma, perché ricordiamo che la Roma ha una clausola di 20 milioni per l'Italia, per le squadre italiane, quindi se un giorno viene il Milan, bussa la porta, e ti vuole pagare 20 milioni, la Roma ha le mani legate, decide Di Bala. Se bussa una squadra estera, la clausola è di 12 milioni, ha bussato il Chelsea, voleva pagare il 12 milioni, ha messo sul piatto 12 milioni, Di Bala ha detto no, ha detto no. Ora, il Chelsea ovviamente si è ritirato, perché il giocatore non vuole, e Di Bala rimane a Roma. Ora, si sta lavorando per il rinnovo del contratto, quindi, ovviamente, credo che, prima il rinnovo, poi semmai la numero 10, perché è una cosa tuttuna, prima il rinnovo, e poi la numero 10, non prima il numero 10, e poi il rinnovo, perché Di Bala deve dimostrare formalmente l'amore per la Roma, rinnovando il contratto, perché non è che va in scadenza, va in scadenza fra due anni, però c'è questa clausola un po' rognosa, che, se bussa qualsiasi squadra, paga quella clausola, che è bassissima per il valore del giocatore, e Di Bala può decidere di andarsene quando vuole, ok? E quindi, si sta lavorando, le cifre non sono neanche altissime, si parla di un aumento di pochissimo d'ingaggio, c'è un prolungamento, e l'eliminazione della clausola, e poi si parla di questo numero 10, c'è da vedere se si inserisce tutto questo nel contratto, oppure se sarà una cosa a parte. Ragazzi, finisce qua questo video, sono 15 minuti, ma vi consiglio di vederli tutti, perché l'ho analizzata veramente, mi è venuta molto spontanea, da tifoso della Roma, quindi io sì, penso che se Di Bala si assume questa responsabilità, può prenderla la numero 10, se rinnova, e se finirà la carriera qui, perché parliamoci chiaro, di Bala qua è il re di Roma, e fatemi sapere la vostra nei commenti, e come vi ho detto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice all'insù, e noi, come sempre, ci vediamo, a un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.